Siamo nel deserto, stiamo attraversando il deserto, perciò suonatori, suonate piano, è notte, ci sono le stelle nel cielo, si sentono solo i suonagli e i cammelli, suonatori, potete provare a suonare piano, stiamo attraversando il deserto, difficilissimo bloccare dei suonatori quando hanno degli strumenti in mano, lo vedrete. Laитанcia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.